I dati riportano che proprio nel momento di crisi della pandemia sono aumentati i reati di racket e di usura. Siamo nello studio dell'Avvocato De Iaco, al quale vogliamo rivolgere una semplice domanda. Avvocato, i dati non sono certo confortanti. Cosa deve fare l'imprenditore o il cittadino che si vede vittima di racket o usura? Il cittadino deve denunciare, non deve subire. Il problema però è che io comprendo, anche se denuncia, non ha un supporto coerente da parte dello Stato e da parte degli enti territoriali preposti. Per cui è evidente che poi alla fine, pur di non soccombere, di non fallire, di non chiudere, avendo il desiderio di lavorare, naturalmente si rivolge a delle forme di finanziamento che poi naturalmente lo sfruttano. Come fare per denunciare? Sono delle associazioni perché non abbiamo più a Lecce il centro antiracket. Dove deve andare il cittadino o l'imprenditore? Deve andare dai carabinieri. Guardate, anche il centro antiracket nella sua forma iniziale è servito relativamente. C'è una forma organizzata che si chiamano carabinieri, polizia di Stato, a queste bisogna rivolgersi e queste danno sicuramente una risposta immediata che possa risolvere, non dico il problema, ma almeno venire incontro a quelli che sono i rischi che un cittadino corre rivolgendosi a queste persone. E il cittadino che ha paura di avere delle ritorzioni, lei cosa sente di dire? Ebbene, naturalmente non si può violentare il cittadino in questo senso, cioè costringerlo, però il cittadino alla fine si renderà conto e si rende conto superando la paura che diversamente comunque è destinato a chiudere e comunque a morire economicamente.